Salve a tutti amici in questo video vediamo come superare la missione elezioni presidenziali su God Simulator 3 è molto semplice si tratta di trascinare tutte le persone che troviamo qui in questa zona dentro la cabina elettorale non tutte nel senso che devono essere tutte quante ma tutte quelle che abbiamo a tiro quindi una a una dentro la cabina anche i membri della security non è un problema l'importante è andare a riempire la barra dei voti barra che si vede guardando in alto sul tabellone come potete vedere a destra c'è scritto quanti voti rimangono perfetto anche lui ne rimangono due circa ecco qua intanto c'è questo qui che sta rimbalzando sul tendone ok ne manca uno e ci siamo ed ecco che finalmente siamo presidenti o capra presidenti un saluto